andiamo io andiamo dove è nelle nostre scuole questo credo andiamo sono samurai abbronzati sima è il momento di fargli capire che non sono mai chico ma gli altri si è fatto vai dopo vabbè tutta qua e dove come la villa questo non c'è da acqua di salotto a cavolo e con la record e invece perché stai ricollando un momento umorismo vaiato 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 va va mi oh no no è un massimo incredibile che sta per morire perché non fa danni no, sto laggando ah, ok ma si è ucciso uno ha si è ucciso pure la mano ha smesso di laggare guarda, ma muore Mary, godo no, c'è ancora una godo, godo eh no ma non fai dare il tiro oh, è pigliato, è salita bella ridi possiamo andare complimenti ma sono la formazione del sasso attacchi di una serie sono bugati non è che balla mentre non ci riesce a baggata guardate, è bugato ecco il giro non mellono mai sa che basta ma io voglio farmi l'ultimo accetto no, ha flashato, gay